Grazie a tutti 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 Sono giunto qui con l'onore di fare da narratore a questo meraviglioso evento seguendo le parole del nobile geografo ed inquisitore Leandro Alberti che tanto scrisse bene di questa bella città di Nardò L'evento si svolge nel 1653 in agosto probabilmente caldo come quello che stiamo vivendo oggi ma altresì spettacolare e festoso La cerimonia ufficiale della fiera dell'incoronata comincerà con l'investitura del magister Nundinaru di cui vi racconterò fra poco La fiera si svolgerà per nove giorni dal primo sabato fino ai nove giorni successivi La fiera è un evento spettacolare ci sono presenti autorità presenti da terre stranieri a cui il duca ha concesso una carrozza E intanto è mio onore salutare quelle che sono le autorità che fra poco vi annuncerò e che usciranno dal palazzo Vi prego di rispettare i modi e le festività che questa cerimonia richiede Invito il cerimoniere che fra poco uscirà ad accogliere degnamente tutte le autorità che usciranno da palazzo Una volta sistemate gli sbandilatori di Capurso daranno vita a una breve esibizione Prego a voi Grazie a tutti Prego di avanzare il palio dei pittaggi Il palio simboleggia la competizione che avverrà domani Il palio simboleggia la competizione che avverrà domani Prego ad invitare uscire il gonfalone del re con la sua scorta E a seguito si preparino il camerlingo e la sua nobildone Il palio simboleggia la competizione che avverrà domani Il palio simboleggia la competizione che avverrà domani Sono chiamati a presenziare ora il gonfalone della città seguito dalla sua scorta E i sindaci dei nobili e del popolo seguiti dalle proprie consorte Avanti, prego E i sindaci dei nobili e del popolo seguito dalla sua scorta E i sindaci dei nobili e del popolo seguito dalla sua scorta E i sindaci dei nobili e del popolo seguito dalla sua scorta Prego E i sindaci dei nobili e del popolo seguito dalla sua scorta E i sindaci dei nobili e del popolo seguito dalla sua scorta Ora vi presento a voi l'emerito duca, la sua bellissima consorte duchessa, la dà di compagnia e il giullare che il duca ha deciso di portarsi appresso. Prego, o ma... Per omaggiare degnamente questa manifestazione, pregherei gli sbandinatori di Capurso di esibirsi ed omaggiare il popolo. Prego! Prego, pego! Prego, pego. Prego. Prego. Prego, pego. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.